Questa sera siamo di nuovo in Contramanfrond a fare una roba stupidissima stasera stupidissima e stavolta guanca il termometro 5.3 gradi bene mangiare a posto, birre che abbiamo, birre e cosa hai detto? La legna e dopo cosa avete ancora? La prugna comporta la prugna e dopo con una sorpresina Ubi Allora l'altra volta sono da dritto verde lì e stavolta Nemo invece perde qua Questo è succovinto anche a me, eccovi perché mi sono furbo Guarda lei è ripidissima stasera, ma che è ripidissima tessi tic tessi vecchio Lei è ripidissima, guarda com'è che sbrilluccica, questi sono i 5 gradi, i 5 gradi del termometro Eh ma dopo controlliamo meglio i 5 gradi, guarda com'è che sbrilluccica tutto, che spettacolo Amico ho bisogno di scappare via ogni tanto a fare cose sceme E stasera c'è anche la sorpresina, a fare rave sceme però Ma che sorpresa c'è che c'è Ti vedrai meravigliosa Sono curioso per vedere questa sorpresina Ti pensi a solo cosa che devi fare? E' martedì sera in mezzo al bosco, nel nulla, è freddo Eh, sta a me distante Ahahahahahahahahah Tu hai mai niente nel bosco con la legna? Eh, no perché di solito nel bosco ti trovi la legna Si va a fare legna Ah, c'è impatto zero questo Decidamente c'è impatto zero No, l'impatto è così sulla tua schiena Io forse non la tiro Ma sei sempre devo segnarti Ah, c'è in piedi non si arriva mai Ma dai, c'è arriva Sì, anche prima tu dici L'esimio passo manfino Dai, allora possiamo arrivare Ecco qua, a lei Sai che spiana c'è una roba bella Eh, ma c'è la classica roba che ti trae in inganno C'è l'ambiente perfetto questo per la sorpresina Ecco, ma dimmi, qual è questa sorpresina? Voglio saberla È una cosa calda Ma cosa preoccuparmi? No, non c'è una cosa calda che ti coccola Qua siamo dove c'è la ferratina che si arriva sul punto panoramico Sì, fiamo un salto fin cima Beh, essendo qua mi tocca Anche perché teme che è tanto rotto le scatole questo termometro Vengo da provarlo in varie situazioni Oh, senti che freddo Ma quanti gradi saranno Umberto? Sarà 15 gradi Insomma, che ha sempre fatto freddo tutte le volte che sono da via senza termometro E senza sorpresina E senza sorpresina E adesso, dato che ti ho messo tanto rotto le scatole col termometro Ma quanti gradi saranno Umberto? Ah, non lo so Vediamo Secondo me sono due gradi Due gradi Vediamo quanti gradi c'è Secondo me c'è Tre gradi dai Ok Va bene Vediamo 0,5 E' come il calendario dell'Avvento Con le sorpresine E' ancora la legna che non mi ha persa La legna, aspetta che controllo Legna, legna Sì, sì Legna che sei Vai, vai, tranquillo Siamo arrivati E facciamo un po' di scena Senti che freddo Andiamo a scaldarci Andiamo a scaldarci Andiamo a scaldarci dentro, dai Permesso Madonna, cosa hai portato dentro? Cosa hai portato dentro? Guarda qua Vito Tutto questo problema di legna Eh E' un po' brutto No, ma non si può portare via legna Allora Se vogliamo portare la nostra legna Partire subito, eh Ma veramente Ti porto sempre a Drio Non ho mai visto uno così bravo a taccare il fuoco E' tutto ciò con l'acciaio Guarda L'idea del fuoco La se sta Bellissima Vincente Però che manca i Lugani Adesso però che sei la sorpresina No, la sorpresina mi preoccupa Quindi? Quindi gamelle Eh? E dentro le gamelle Cosa mettiamo? Il tè caldo Il tè caldo no No Troppo semplice Troppo dozzinale Cos'è? Eh non lo so cos'è Bombardino Bombardino Scaldiamo uno intanto Dopo trevasimo Lo bevemo secondo ti? No secondo me non bevemo mia Vai! Vai che grande Gradisci? Grazie Grazie Temperatura 12,3 In aumento Cin 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 Buon 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 Che ripresa Un po' 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 Grazie a tutti.